Proseguono le indagini della polizia sui roghi appiccati la notte tra sabato e domenica a Taranto che hanno distrutto 13 autovetture in sosta in diverse zone della città e danneggiato gli androni di due edifici. Al centro delle indagini un filmato amatoriale. Nella sequenza video registrata a quanto pare in via Consiglio si vedono due persone in sella ad una moto. Una scende, si avvicina ad un'auto, provoca un bagliore, fugge assieme al complice sempre sulla motocicletta. Sul mezzo ora si concentrano gli accertamenti degli investigatori guidati dal questo Renzo Mangini. Le fiamme sono state appiccate soprattutto nelle vie del centro di Taranto. Dalle 23.30 alle 3 di notte la città è stata letteralmente messa a ferro e fuoco. La dinamica sembra quella di una serie di raid vandalici proseguiti nel borgo per quasi sei ore a distanza di dieci minuti, un quarto d'ora l'uno dall'altra. La serie di roghi è partita alle 23.30 in via Principe Amedeo con l'incendio di una cabina elettrica. Di lì a poco le fiamme hanno avvolto auto ed edifici. Le autovetture andate in fumo, 13 in tutto, erano parcheggiate in via Viola. In questo caso sono stati ben sei i veicoli coinvolti. E poi altre due auto sono state incendiate in via Consiglio, in via Sforza, roghi anche via Lago di Nemi e in via Cannata. Per nessuno dei casi è escluso il dolo, considerata la frequenza e le modalità degli incendi. Sicuramente doloso invece l'incendio nel vano Portineria dello stabile in via Berardi 15, lo stesso dove assede il quotidiano Tarantosera. L'altro incendio in edificio ha riguardato invece il vano ascensore di uno stabile in via Poppino 151, da accertare le cause.